Questa è una dimostrazione che sabato è capitata a me ma comunque è capitata anche ad altri che comunque chi sta giocando meno si fa sempre trovare pronti e questa è una dimostrazione che il gruppo è unito e che tutti quanti remiamo dalla stessa parte tutti vogliamo il bene di questa squadra e tutti cerchiamo di farci trovare pronti quando veniamo chiamati in causa Sabato sapevamo che poteva essere una partita difficile come alla fine lo è stata perché comunque anche loro hanno espresso un buon calcio e ci hanno provato a mettere in difficoltà durante la partita però siamo stati bravi sia all'inizio quando abbiamo subito cercato di inirizzare la partita nel modo migliore infatti siamo riusciti facendo gol e poi credo che comunque nel momento migliore loro noi siamo riusciti a fare il 2-0 che lì poi le cose si sono incanalate nel migliore dei modi con lo spirito, ovviamente non dico con la tranquillità ma con la consapevolezza che stiamo facendo bene quindi vogliamo continuare a farlo, la voglia c'è e quindi andiamo lì con la voglia che ci ha contraddistinto in tutte queste partite quello di cercare di fare sempre bene e fare i più punti possibili